I giganti sono arrivati a Smirne, in Turchia, direttamente da Pistoia dove hanno centrato un'importante vittoria che ha interrotto il digiunio in campionato. La Dinamo Banco di Sardegna è pronta ad affrontare il prossimo turno di FIBA Europe Cup. Oggi affronteranno il Pinar Karsiyaka nella sfida di andata dei quarti di finale. Una sfida che si annuncia accesa su un campo caldo. Il Pinar è una squadra da temere, che fa di esperienza e difesa le sue armi principali, che non ha le grandissime individualità ma può contare su giocatori esperti. Non ci sono giocatori fenomenali dal talento cristallino, ma sono tutti esperti, con un meccanismo ben oleato, di un gruppo abituato a giocare insieme e una grande accortezza difensiva, così li descrive coach Pozzecco. Nella tattica di gioco non si dovrà concedere agli avversari dei break, perché potrebbe essere determinante o addirittura compromettere la partita di ritorno, ed è quello che non dovrà accadere. La partita è significativa in Turchia, per poi giocare la chance a Sassari in casa, conclude Pozzecco. Grazie. Grazie.